Nel corso della sua quasi ventennale carriera, la destinataria di questo premio ha studiato e analizzato narrative e stili che ci distraggono dalle verità nascoste. Signore e signori, una fonte di ispirazione per tutti noi, Katrin Ravenscroft. Per tutti questi anni, hai nascosto al mondo alcune parti di te stessa. Ha un faro della verità, una persona che mi ispira ogni singolo giorno. Hai tenuto tutti all'oscuro per mantenere un equilibrio e credi di esserci riuscita. Fino adesso. Che stai facendo? Katrin! Katrin! Lascia me! Katrin! Lascia! Parla di me! Si dice che il destino bussia alla porta. Non è affatto vero. Il destino non bussa mai a nessuna porta. Il destino non chiede il permesso. Si impadronisce senza chietà della tua anima. Doveva provarlo. Doveva soffrire così come avevo sofferto io. Non sei stata sincera con noi. L'uomo si è presentato qui con un libro che ha scritto. L'hai molestato e l'hai minacciato. È lui che sta minacciando me. River, so che il Katrin... ...comme fa a dormire alla morte. ...o non ci meriti. Il mondo deve sapere chi è Katrin Levenscroft realmente. Dovevo raccontare la verità al mondo. Dovevo raccontare la verità al mondo.